come avete visto il primo secondo terzo quarto quinto sesto settimo corso e questo qua è l'ottavo che faccio e siamo arrivati solamente qua abbiamo finito le velocità e la temperatura perché questi corsi in cui utilizzo questo cura qua voglio approfondire molto e entrare nello specifico perché voi potete stampare qualsiasi cosa in ogni angolazione e modificare i parametri al fine che le stampe escano bene è già testata con altri programmi ho avuto difficoltà nel senso che qualche stampante mi sclerava nel senso che impazziva un po' e quindi con questo non è ancora capitato vediamo il supporto e il supporto è una fase critica nel senso che è difficile da mettere non si sa bene all'inizio quando serve e quando non serve e quindi io consiglio che chi comincia a stampare impostate sempre il supporto ovunque e guardate dove lo mette guardate dove lo mette imparate a entrare nella visualizzazione dei layer e immaginatevi come la stampante stamperà guardate bene tutti i supporti che vi ha messo e andate a modificare questi parametri avanzati che in ogni slicer troverete il tipo di struttura qua ce ne sono solo due griglia o linee perché uso uno perché uso l'altro dipende dalla situazione fisica che mi trovo durante le stampe ovvero per questa stampa per esempio sto stampando del pet con il carbonio e succede che se lo metto a linea il supporto ondeggia ondeggiando dei filettini escono e quindi il supporto non è bello stabile di conseguenza è più difficile da staccare però sono sicuro che la mia stampa verrà sorretta perché ovviamente la mia stampa è una stampa un po' strana e va sorretta in fondo quindi griglia quando volete che il supporto sia molto stabile e quando per esempio quando dovete appoggiare qualcosa sopra il supporto e far sì che il grip che c'è sia molto aderente lascio griglia angolo di sporgenza è utile tenere sempre quando cominciate a stampare griglia o linee vedete voi fatevi voi i test perché dipende dall'oggetto ma come angolo di sporgenza tenete 55 o 60 tenete 60 e quindi voi ogni volta vedete dove serve il supporto perché se l'angolo di stampa è inclinato di più di per esempio in questo caso 55 gradi mette il supporto quindi vuol dire che l'inclinazione sempre più di 55 gradi c'è qua qua e 55 finisce e qua sale quindi non serve più il supporto se noi qua andassimo a mettere 45 questo si sposterà un po' e ci sarà più supporto ora non lo faccio perché questo file mi serve una cosa che sto stampando quindi voglio mantenere i parametri così come sono se quindi avete un oggetto e non sapete dove appoggiarlo ma lo appoggiate sui supporti per esempio tenete griglia e mettete un angolo di sporgenza basso controllate sempre quanto supporto mettete cioè un oggetto cercate di non impiegare tanto supporto io cerco quell'inclinazione che renda più solido l'oggetto ma che mi crei anche meno supporto a me come ammontare del riempimento del supporto è come l'ammontare del riempimento del vedete qua dell'oggetto qua sto lavorando con un riempimento dell'oggetto pieno e qua invece il supporto lo sto facendo non pieno perché lo faccio al 18% è il limite massimo per un oggetto così nel senso che è difficile tante volte sostenerlo con supporti più larghi a meno che l'oggetto non si allarga io spesso se c'è poco supporto da mettere lo rendo più fitto anche per garantire che la stampa esca bene se i supporti sono tanti tipo questo devo un po' lavorare scarico se poi non c'è soluzione comunque dovete metterne un po' la distanza x, y e z è importantissima perché se avessi distanziato di più il supporto dalla mia stampa questa il mio supporto non avrebbe retto l'oggetto perché questo oggetto sale e dopo anche il peso lo fa cadere e quindi l'ho tenuto basso il minimo che uso è 0.7 e 0.1 ogni tanto utilizzo come distanza z 0.2 è bene usare dei multipli dell'altezza a cui state lavorando se non volete sbagliare come media invece qua 0.7 vuol dire che il mio supporto è attaccato alla parete x e y vuol dire destra e sinistra 0.8 e via via se volete distanziarlo molto utile perché tante volte non riuscite a rimuoverlo e il problema è qua un'altra cosa per cui è utile è che tante volte l'oggetto casca, cade e quindi dovete sempre intervenire qua il supporto l'abbiamo visto è stato un corso, per me ho detto veramente tante cose e sono contento del numero di visualizzazioni che sto avendo perché vedo che le persone sono interessate guardano molto il video e lo riguardano spesso perché per me stanno stampando a casa mi è capitato spesso che mi chiedessero consigli anche sui commenti su come stampare se volete commentare e dirmi che problema avete avuto mi fa molto piacere perché vorrei sentire anche le campane di chi sta stampando oggi se questo video ti è piaciuto mettici sotto un bel like e consiglialo a qualcuno che ha appena comprato una stampante alla prossima alla prossima